In Consiglio regionale come da regolamento arriva la proposta di legge regionale di iniziativa popolare sul suicidio assistito, ma questa tornerà in commissione per ulteriori approfondamenti. Una proposta depositata dall'Associazione Luca Coscioni con il supporto di oltre 8.000 firme, una legge che ha passato anche il baglio del Collegio di Garanzia regionale che ne aveva sancito l'ammissibilità rispetto alla Costituzione e allo Statuto. La Regione aveva anche iniziato un ciclo di audizioni, ascoltando i promotori Riccardo Vardere, Gianluca Di Marzio e anche medici e pazienti, ma poi il ciclo è stato interrotto a causa dei tempi. Un tema delicato che per il capogruppo di Fratelli d'Italia Massimo Verrecchia merita ulteriori approfondimenti. Abbiamo iniziato le audizioni, è un tema importante e delicato che va affrontato anche all'interno della stessa maggioranza perché oltre ad essere un argomento giuridico è anche un argomento di etica e di altre sensibilità che il testo racchiude. Quindi dobbiamo continuare nelle audizioni e lo faremo ritornando col testo dall'Aula in Commissione. Luciano D'Amico, capo dell'opposizione, ribadisce con forza la sua posizione a favore. Noi sosteremo con convinzione questo disegno di legge perché riteniamo che sia un disegno di legge che amplia gli spazi della libertà di ciascun cittadino e quindi faremo di tutto perché possa essere condiviso dall'Aula e possa trasformarsi in legge.